Allora, il merce, calendarmel No, sì, da scala ovviamente Allora, da scalare su un'altra merce che acquisti Un altro calendarmel senza il cavallo Quello che cos'è Oggi non mi vengono proprio i nomi Ho la memoria in tilt Questo è il Jaking E qui c'è il di materiale 60 euro Daltanius In buono spesa diciamo Questo? Sì Questo se poi lo può pure rinunciare Gordian Micronauti Daimos Drago spaziale Quello è I men I soldi? 60 Considera 40 I soldi Raul Di che sciro? E' vero Se riesco a prendere tra i 15 e i 18 euro Perché i Origins purtroppo hanno fallito miseramente Mentre invece SuperSaman E' un'altra serie che uscita parallelamente a loro E' un'altra serie che uscita parallelamente a loro E' un'altra serie che si fa pubblicando E' un'altra serie di spiattura E' un'altra serie di spiattura E' un'altra serie di spiattura Come cosa nerd Allora Daltanius Il discorso del collezionismo che te facevo Qui c'hai un Daltanius da collezionismo A 350 euro Praticamente mai giocato Ma giocato Made in Japan Perfetto Poi abbiamo un stesso prodotto Singapore E te lo faccio la metà 150 euro Meno da la metà Questo perché Sono due discorsi totalmente diversi Calcola una cosa Io diciamo che sono un amante Ma devo anche guardare un attimo il lato finanziario E mi devo regolar Quindi automaticamente Allora Baglios Gundam Spadadischi Gundam ST Completo De Spada Spada Bazzuca E Missili di ricambio Questo è completo Manca solo il freggio Ma quello con Una spanzata Te la hai raggi Io ho visto Questo Aspetta Questo qua che cos'è? Questo è il Pax Il Gokai No No Cosa è il Bax Inger Con uno Due Ah quello dei motociclette Questo è Però la lezione ST Quella non trasformabile Quella un po' più Questo quanto sta? Non mi prezzi Questo lo faccio 35 Così mi regolo Con i due Con i due fucili Comunque sta pure messo bene Per 35 No no Certo c'è Quello che si trasforma in 3 Non qualcosa del genere Si ma non si trasforma Questo pure è l'ST Come no Questa è una cosa bella Che c'è pure Pugni e fucili Che è un pezzo Che non si trovano Oh ma ci Comunque M'è messo M'è messo M'è messo Guarda allora Questa si è della Popi Made in Japan L'avete marchiata La cosa nerd No vabbè qui dà il prezzo Questi sono pezzi Della Popi Usciti a fine anni 70 Si infatti si vede Io caccola che collezionavo Diciamo Starzing Che avevo solo l'ST Dello StarCrow E poi ci abbiamo l'Hill Ci sono pezzi Molto importanti A livello collezionistico Al prezzo di? Quello te lo faccio 160 Però considerando Che eventualmente Me lasceresti questi qui Da 160 Passi a 100 E ti porti appresso Promature eccellenti Spada Pugno con Accessorio che spatta tutto Meccanismi a sparo funzionanti Il Beraglius dietro c'è il cannone Questi pure Questo è detto deluxe Quindi quello che si smonta Questo è il trasformabile Si Una cosa importante Che manca il delfino spaziale E i pugni grandi Come accessori Diciamo principali Poi c'è la spada La spada di Decoso De Antares E c'hai Quella bustina Con quei Invece Ah beh Questo Mi mancherebbero solo i pugni A questo A Baldius Si mancano i pugni Perché poi Alla stella Ce l'ha Due spade E il freggio Questo è una spada Non è così Logicamente Se Se prendi più pezzi Iniziamo un attimo A fare Quasi tutti gli accessori C'è solo un pugno E' un po' giocato E c'ha un corno spezzato Lì il discorso Che ti dicevo E' quello Una cosa è Voler avere Un pezzo da collezione O avere un pezzo De richiamo Questo è un pezzo De richiamo Che volendo Poi ci puoi mettere I cose Lo vai a cercare i pezzi E questo con 80 euro Te lo porti via Che è un prezzo Totalmente Manca il gelato Manca il gelato Sempre il solito Il discorso A livello collezionistico Il pianeta vale quanto Il roba stesso Tu dici Non è possibile Guardate quante busse Qua è tutto I men Dominatori dell'universo Questo qua Questo non ce l'hai Deluxe Mi sono andato No Portagher No questo Vedrlo così Non mi preparo Non mi preparo Perché se ne ce l'hai Non mi faccio Perché due due Sono molto Un po' Un animo Un po' 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 Grazie.